Di parchi per i cani ce ne sono molti, però le necessità sono tante e anche qui nel quartiere Nord è stata presentata addirittura una petizione. Sì, abbiamo raccorto un centinaio di firme, l'abbiamo già consegnato sia al quartiere Nord e al comune di Novara. Che cosa chiedete? Noi chiediamo che quest'area qui viene addebita per quanto riguarda 96 amici a quattro zampe che hanno diritto anche loro di fare i bisogni all'interno di questo cortile. Abbiamo presentato queste firme in comune e le abbiamo presentate anche al quartiere che ha avvallato questa nostra iniziativa, quindi anche il quartiere è d'accordo e ci aiuterà nel raggiungimento di questo obiettivo. Non ci sono altre aree così nei dintorni? Sì, però sono un po' distanti e anche alla sera tardi noi ragazze soprattutto andare in giro da sole così viene un po' un problema. Quindi voi chiedete di recintare un pezzettino di quest'area? Certo, proprio per comodità, per far correre i nostri cani. Potrebbe essere un buon modo per far socializzare i cani, potrebbe essere un punto di ritrovo e anche di divertimento insomma. Sicuramente è un punto anche di ritrovo e appunto visto che comunque, come diceva la signora, altri parchetti vicini non ce ne sono proprio, potrebbe essere un questione di sicurezza soprattutto alla sera, anche in una situazione appunto di uno che è impossibilità di portarlo fuori qua vicino potrebbe essere un'ottima soluzione.